la nuova età dell'oro si sta ancorando di judith chiusel 26 maggio 2024 durante la mia meditazione iniziale mi è apparsa maria maddalena con la presenza palpabile del divino femminile ciò che ho ricevuto va oltre le parole e l'espressione successivamente ho contemplato la profondità di questo preciso momento l'infinito presente con la dissoluzione dei veli dell'amnesia la nostra memoria più profonda ritorna perché ora possiamo accedere alle dimensioni superiori poiché gli angeli e i maestri ascesi sono qui a camminare al nostro fianco nel modo in cui meglio sentiamo nel nostro cuore e nella nostra anima non l'ho chiesto ma mi è stato detto che mi sarei fusa con il mio maestro asceso e sono stata guidata a farlo come concordato prima di incarnarmi non può essere fatto con leggerezza perché significa che la trasfigurazione è intensificata su molti livelli e in modo tale che dovete essere in grado di mantenere la forma fisica e non disintegrarvi qualche settimana fa ho letto che possiamo chiedere di fonderci con il nostro maestro asceso se lui o lei è d'accordo questa è stata semplicemente una conferma della mia guida e da allora ho sperimentato cose che non posso esprimere perché hanno un'energia così elevata che il linguaggio umano non può trasmettere molti di noi stanno attraversando cambiamenti interiori così profondi e stanno rilasciando così tanto a tutti i livelli che ci renderemo conto della portata di tutto questo solo nel 2026 in effetti mi è stato detto che ci stiamo preparando per l'anno 2025 quando accadrà qualcosa in un momento cosmico che porterà a un totale cambiamento di paradigma a tutti i livelli considerate questo come un periodo di preparazione in cui tutto ciò che siamo viene liquidato come mi è stato mostrato e ho sperimentato questa mattina le acque vive della vita le acque terrestri si stanno fondendo con le acque dello spazio e dei livelli universali e siamo nello stato di rottura delle acque prima della vera nascita traduzione e voce marina traduzione e voce marina